E allora, ringrazio il Presidente per le sue ricerche certosine, gli atti e documenti che ci hanno permesso di festeggiare la plurisecolare vita del circolo. Poi voglio ringraziare la deputazione e in particolare il suo segretario, che è stato l'anima e il maggior operatore di questo incontro. Grazie. E ringrazio l'Assemblea, che in occasione della celebrazione dei 175 anni di vita del nostro sottalizio, ci ha voluto ricordare, consegnandoci una targa ricordo dei nostri lunghi 50 anni di frequenza. Ringrazio le gentili Signore, che ci hanno onorato con la loro presenza. Presenza che rappresenta una svolta e vocale per il nostro circolo. E l'ultimo, se mi permettete, collegando il passato virtuoso del nostro circolo con il suo futuro, voglio rivolgere al circolo un augurio per un profugido e radioso avvenire di progresso e di sapere, ricordando i versi di Dante nell'esultazione di Ulisse ai suoi compagni. messi e così suoi, fatti, toste a vivere come brutti, ma per seguire la donna e conoscenza. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. ...che ha dei valori, ha dei principi, ha questi principi valori, diciamo, vivere senza fare distribuzioni, senza sentirsi superiore perché la persona non la... ...che cosa è bello! ...che cosa... ...questa la facciamoci, organizziamo. Regidio, Regidio, benvenuti. Il Presidente metaforicamente taglia la porta con l'augurio di vivere almeno a 375. Il Presidente metaforicamente taglia la porta con l'automobile. Il Presidente metaforicamente taglia la porta con l'automobile. Il Presidente metaforicamente taglia la porta con l'automobile. Il Presidente metaforicamente taglia la porta con l'automobile.